poi di portare cose interessanti di metterla videocamera che farlo capito grazie mille vento ancora grazie mille caro thank you grazie andrea c'è riuscito saluti brutal da parte miele dica che è un pirla è un pirla scusa un attimo io yellow king sono due mesi grazie mille secondo mese e grazie il meglio del me la ringrazio grazie anche a tu da dilon e grazie a riscaldarsi un'altra volta 25 capi grazie mille exit veramente si fa il doppio shield vorrebbe far casca vorrebbe far droppare l'avversario ma non ci riesce e gli entra di piccolanza in modo molto aggressivo non so perché vola vola entrare dimetraglietta mano un'altra volta con un'altra volta 105 non c'è spugno, ma no, mi hanno distrutto, mi hanno distrutto, io ho fatto 105, vabbè, io non ho parole, 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 e l'altro, gli altri 100 c- Eee, Fortnite n'è, un gioco che di bug pieno è, quando peschi oppure quando buildi, si bugga sempre, sempre, se guido sai, se buildo sai, a volte succedono cose dai, ha speso 4 miliardi, e fa schifo al cazzo coi bug, andiamo, andiamo, saca de la kitty sincula, biribidobidibu, fra poco arriva il bottazù, e tu ti uccide di più, scogliere ragazzi, let's go, ma perché? Sì, perché ci stanno cecchinando, non ti fermare, eh, gente qua davanti, sono in due, a terra 1, andiamo, 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 buono, non farlo buildare, Spingi, 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 non farlo rebuttare, eh, porco diazza, continuo a spingere, continuo a spingere, continuo a spingere, ho capito, ma fai qualcos'altro, figa, mi stai mandando al manicomio, bambini, otto anni, figa, E' vero, eh, assarello, eh, oh, 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 oh Siete qua, incur a cena, basta fare il malato, ouverture,енно, stiamo, non è che sono deficienti, figa, via esca 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 mi sono cagato addosso occhio da dietro copritemi occhio qua occhio può che si vorrebbero raga raga sto volendo prende non puoi prenderlo sai che ti volto mazza raga son sotto è stiamo buscando e di come sei morto no non hai capito niente non voglio saperlo ahhh siiii fan culo fan culo uh uh dov'è com'è com'è ahhh siiii 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 mamma 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 climpa climpa chi è che parla chi è che parla oh biscottino ero rimasto era rimasto attaccato eri rimasto attaccato allo scottex Non sapevo come uscire Hai visto che ti ho salvato io Sono il tuo salvatore Grazie X-Hooder Come potrò mai ringraziarti Dai dammi un bacino sulla guancia Che siamo pari Va bene Steva blu si si Pumpa e tanto io non ho il pump Quindi ok Pumpa e leva sono due cose Posso garantire che io col charge Siamo ancora più lontani Siete qua X-Hooder OOOH OOOH X-Hooder 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 Ho visto lo visto arrivo Oh mio Sei troppo basso Che cazzo fa Ma scusi Che c'è senso Stavo sistemato Mi ho Mi ho Mi ho fatto scass Ehm 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 Figa F però dai Ehm 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 Aaaaaah No non ci Siamo E vedi che dio Porco bastardo Porco dio E' morto a posto esatto Ma io sono morto a posto E cazzo continuate a scrivermi lama Sono morto dio cane Lama Chi è? Donna Cosa è successo? Perché mi hai caduto la fotocamera Che serve? Perché mi vado a arrivare a casa E chi è successo? Un gigante Grazie per il panno bro Grazie per il follow bro Cosa è successo? Cosa? Giacchino app stai zitto No ma niente Mi padre Argentino Worked 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 Lavorava? Giusto? Worked no? Worked Ministero Cazzo si dice Fanno culo la capa in blu Non serve a un cazzo Morto 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 Che cecchinate che hai fatto Perché hai ucciso? E' uno a sinistra Dentro la montagna Non so se riescono a arrestarlo Noi sicuro non lo possiamo